Questa è una tampania e ho visto dei uccelli pedatori, quelli che si incibano dei puccini, cioè mangiano i puccini, ma non so dove, 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 era bello grande, non so, ci sono un uccello bello grande era, fa di uccelli belli ci sono, non si vede vero? Si vede ora, c'è un bello vento oggi, è tutta tampania questa, abito in mezzo alla tampania, è bellissimo. Aspetta Mi, ci sono dei uccelli grandi, è tolà, è tolà, dov'è? Boh, era grandissima, la dasarada si chiama, tu è l'uccello, ci sono tantissimi, non si vede niente, beh, bo. Cielo tonitatoare, ce puritatoare. E' bellissimo, un bello paesaggio. Un paesaggio bellissimo c'è, è grandissimo, bello. C'è poi la chiesa, non so dove è andata a finire quell'uccello grande, l'ho visto due minuti fa, ci dovevo fare il video ma non ce l'ho fatta, perché sono andato. Vedremo la prossima, se posso farci il video. Grazie.